ci sono strumenti in cui il suono viene prodotto dalla vibrazione di corde Sia sollecitate con un arco, sia pizzicate o percosse In questa parte cose, qui il suono viene prodotto dalla vibrazione di corde In questa parte cose, qui il suono viene prodotto dalla vibrazione di corde Percorso Quei suono percorso Percorso In questa palla Percorso Il suono viene prodotto Dalla vibrazione Vibrazione Dalla vibrazione 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.